Allora, qui stiamo girando il primo spot Kinodromo. Ciak! E... Azione! 2017, Kinodromo delle sorprese. E vediamo come verrà questa piccola gag sul cinema e sulle pubblicità storiche italiane. Lui si avvicina e mentre si avvicina lui ti avvicini anche tu. Esatto, giusto questo movimento qua. Cose piccolissime. Va bene. Ok? Cose piccolissime non è bello. Ah! Preferirei cose grandissime. Perfetto, hai scelto come star Leo Mantovani. Beh, Leo Mantovani, hai affiancato a Filippo Marchi, due ottimi attori. Con Filippo avevo già lavorato con lei la prima volta e mi è fatto piacere chiamarlo perché mi sto trovando molto bene. Pazzo, ma in fronde chi non lo è. Si chiama la crevasche della caviglia. Ti tagliano la gola. Ti tagliano la gola, ti prendono la lingua e te la mettono sul petto come la crevasche. Sì, sì, sono le donne berber. Sigaro. Ah, ok, quindi non faccio lo sguardo. Il parco però non è male. Stai lavorando nel parco e stanno passando. Io sto lavorando nel parco ma le ragazze non marinano più la scuola come un tempo e quindi non rimorchiamo nulla, solo lavoro, solo lavoro. Questo renzismo ha portato le studentesse chine sui libri per arrivare, capito, per il business futuro, però non si chiama. e un buongiorno per morire, amo. Fillo, un passettino alla tua sinistra. Da qua con un'inquadratura larga, è una costrina. Che ha sfogliato? L'ha sfogliata. L'ha sfogliata? Ciao. Ma che stiamo staccando? Che ne fa? Scusa, Leo. Sì, prego. Ok.